Proiezioni ortogonali di un triangolo. Passo 0. Preparazione del foglio. Determinare le proiezioni ortogonali di un triangolo equilatero, parallelo al secondo quadro e avente un lato parallelo al primo. Passo 1. Proiezioni ortogonali di un triangolo. Si definiscono sul foglio da disegno i piani di proiezione, tracciando orizzontalmente la LT e, ortogonalmente a questa, la retta di intersezione di π3 con gli altri piani. Quindi si riportano sui relativi piani i simboli che li contrassegnano, π1, π2 e π3. Essendo il triangolo parallelo a π2, la sua proiezione su quel piano non può essere altro che uguale alla figura stessa. Pertanto si comincia il disegno costruendo su π2 il triangolo equilatero, dopo averne tracciato orizzontalmente, con lunghezza a piacere quando non sia prefissata, il lato che funge da base. Chiamati A'', B' e C' i vertici del triangolo, con segno sottile, si conducono per questi vertici sia le proiettanti perpendicolari alla LT, sia allo spigolo verticale di π3, prolungandole fin oltre le linee medesime. A una distanza piacere dalla LT, si disegna un segmento orizzontale compreso fra le proiettanti a venti origine in B' e C'. Sarà questa la proiezione del triangolo su π1. Proiezione che va completata contrassegnando con A'', B' e C' le proiezioni dei vertici della figura. Dal segmento B' e C' si conduce la proiettante parallela alla LT, fino a trovare il punto 1. Centrando il compasso in O, punto di intersezione dei tre piani, e con raggio O1 si descrive l'arco che trasferisce tale proiettante da π1 a π3, determinando il punto 2. Da qui si innalza la perpendicolare alla LT, fino all'incontro con la proiettante da A'. Il segmento compreso fra le proiettanti vertici A' e B' C' su π3, è la terza proiezione del triangolo dato. I due vertici che in questa proiezione risultano coincidenti verranno indicati scrivendo B' coincidente con C'. Per ultimo si cancellano le linee superflue e si ripassano con Mina morbida, HB, le tre viste del triangolo. Costruzione completata!